Quali erano i patti? Non mi ricordo Allora, i patti erano che tu rimanevi con me in quarantena perché non sapevi dove andare Però poi mi hai chiesto sempre più tempo, noi ci siamo lasciati da tempo Però per te non è mai il momento Tu pensi che io mi diverto ad andare a vivere la mia mamma? Vai da tua madre, aspetta, vai da tua madre o vai da tua sorella? Vado da mia madre ma intanto porto i pacchi da mia sorella Va bene, allora andiamo da tua sorella Ma non andiamo da mia sorella Non andiamo da mia sorella Che cosa ti porti? Ma non ci viene la mia sorella, noi non stiamo più insieme, te lo vuoi mettere in testa? Ma a me ci rimane male se non porto niente Ma non ci rimane male, tu non puoi venire Perché non posso venire? Ma perché prima di tutto la odi Non la odio Ti ricordi il casino che è successo l'ultima volta? Te lo ricordi? Il casino che hai fatto? Il modo in cui hai reagito, te lo ricordi? Hai dato di matto? Ho dato di matto? Eh sì Non è vero Eh sì, hai cominciato a insultarla No, non l'ho insultata Tu ti ricordi che è successo l'ultima volta? Sì Io me lo ricordo, tu te lo ricordi? Me lo ricordo Il casino che hai fatto? Mi ricordo il casino che mi ha detto che io non ho avuto un figlio Allora se tu e tua sorella mi ha detto le cose che non sono vere Perché la menta Tu non sei mai stata incinta Nessuno mi crede, non mi credi nemmeno tu che mi hai fatto, lo so io che cosa mi hai fatto e lo so io Allora io ti dico, allora ti dico, ti dico vaffanculo perché vaffanculo e vaffanculo Perché se voi mi fate incazzare io mi mando a vaffanculo e basta Io mi mando a vaffanculo perché vaffanculo, perché vaffanculo, perché basta Io mi mando a vaffanculo Holocausto E Cristo